Ciao a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video incredibile sul Supreme Parkour Ragazzi, come mi avete detto, come consiglio appunto, perdonare il gioco di parole Ho messo la texture pack, diciamo quella ridotta della SPAC Infatti ci sono alcune, diciamo, bug grafici, nel senso qualcosa di un po' di bassa qualità Perché quando diminuisci a texture succede questo Ok, siamo arrivati a questo punto, che era abbastanza difficilotto Però noi siamo qui appunto per provarci Vi chiedo scusa se durerà poco questo video ragazzi, ma come avete visto l'altro ieri non è uscito nemmeno un video Perché? Perché c'è stato un brutto, e però non se può fare così, sto a parlare C'è stato un brutto temporale a casa mia, quindi non ho potuto, cioè a casa mia, nella zona E c'erano dei problemi di connessione, saltava la corrente E di conseguenza non ho potuto caricare qualche altro video Anche oggi il tempo si è arrabbiato, quindi devo caricare il video appena posso Cioè, siccome è bel tempo non approfitto adesso, questo intendo? No, ragazzi, ci vuole tempo, ci vuole tempo Ho fatto la... tempo, tempo Temporale tempo No vabbè, perdonatemi Quindi, saltiamo di qua Ok, perché mi lagga comunque ragazzi? No, è qualcosa proprio della mappa, perché io posso ridurre anche il texture pack Proprio Alla minima potenza, ma comunque lagga Sbaglio il tempo, sapete perché? Uno, mi devo mettere già di base un po' storto Uno E due, cioè, devo essere più veloce, non posso essere così lento Spero che per oggi almeno riesco a completare questo Vabbè, il primo salto è proprio una cagata È proprio una cagata Poi qua è pure una cagata Sapete che faccio? Faccio così Perché sbaglio? Perché salto troppo prima Secondo me salto troppo prima e sbaglio Continuiamo Quindi ragazzi, oggi nemmeno mi avete visto sul server Cioè, ieri, perdonatemi, perché sto registrando il giorno prima Vabbè E mi dispiace che non mi sono fatto vedere molto Ma purtroppo, vi ripeto La connessione non me lo permette Poi, con questo temporale, la luce si continua ad andare ogni tanto E... Brutta situazione, brutta situazione Comunque cerco di caricarvi Ugualmente i video Raga, gg CG29 Block hate Missing round with block hate It's fun Fun, no, fun Ma che che? Cioè, mi ha messo tutti i blocchi Non è che sia una cosa tanto difficile Credo Infatti Cioè, se perdo, raga Perché sono io Cioè, se... Se cato, stavo dicendo Sono io che sono un imbecille, no? Perché è difficile la mappa Ok Raga, pensate che io oggi nemmeno la volevo mettere la webcam Sia per motivi di tempo Perché per editare ci metto un sacco E sia per motivi che avevo i capelli tutti scombinati Però dico Tempo Me lo troverò comunque Anche se salta la corrente Intanto posso editare Perché Il computer portatile C'è la batteria E Poi I capelli Metto un cappello So Bada se fa Porca miseria Porca miseria Non so se è fattibile C'era un cartello Cioè Penso sia fattibile per forza Però c'è un cartello Poi c'è Michael Who, no? Se non mi sbaglio nei commenti Ma Nei commenti mi ha detto Lui come secondo me Dura tipo 100 episodi No, no, no Tu non hai capito Io lo finisco prima Non credo che ci riuscirò Però Perché se guardate in alto Non sembra che manchino 100.000 No Che stavo dicendo? No, no Stavo scherzando Mancano 10.000 livelli Non 100.000 Sbaglio il primo salto Come un imbecile Perché se non sono imbecile Non sono Luke Se sono Luke Non sono imbecile Non so cosa sto dicendo Ma Viva la vita Allala Ragazzi Ve lo dico sia oggi Nel video di stasera Lo staff Del Lupacchiot Di Lupacchiot Il mio server E quasi al completo Manca solo un builder Che può dare sicuro Mentre state guardando questo video È già occupato Cioè È già preso il posto I provini L'ho fatto in giorni In cui avevo tempo Vi ripeto C'è stato brutto tempo Il mio staff Lo volevo subito Non ho tempo di fare La settimana prossima Quando tutto sarà stabile Perché voglio pubblicarlo Il prima possibile Questo server Perché Voglio dire anche Un rendimento Da parte Cioè Un rendimento Mettetelo anche Su altri siti Perché In ora Ci giocate solo voi Che mi conoscete Qualche vostro amico E vi ringrazio Che mi viate amici E però Se lo pubblico Si allargerà di più La cerchia Degli utenti E vediamo un po' Che Che traguardo Possiamo raggiungere Tipo 20 giornalieri Cioè Per me va benissimo E quindi Non vedo l'ora Di fare lo staff Completo Attenzione Quindi Difficilotto È difficile Era facile Ho saltato molto prima Di quanto dovevo Eh raga La concentrazione è poca Ok dai Saltiamo Olì Olì Attenzione Ma Sono proprio un imbecile Eh Non dite di no Perché mi mi vuole De fa contente Sono un imbecile No raga Ma se Gamerici Ha fatto 600 kill Quasi Cioè 600 morti Quasi Anche cosa ho detto Nel scorso video Ve lo ripeto Io quante ne farò 10.000 Cioè Lui è stato il creatore Se il creatore Vabbè Quando uno testa I salti Muore di più Perché devi capire Quando sono fattibili Quando no Però Però Sei un imbecile Luke Ma sei un imbecile Eh lo so Sei un imbecile Va bene Per durare mi sono Intanto Sniffo No Che non sniffo Tiro sul naso Ma purtroppo Purtroppo C'è un raffreddore E voi sapete Quando attacchi Il raffreddore È una bruttissima bestia Attenzione Perfetto Perfetto Salto Salto Attenzione Ok Ok Qui This jump Is not hard Ma pensi Capisco solo Questo salto Non è Molto difficile Basta che guardi Roba così Infatti Non è No Stavo facendo un lupo mannaro No raga Avevo saltato Stavo già festeggiando Da idiota Non ho cliccato shift Perché stavo festeggiando E di conseguenza Sono morto E siamo arrivati 2 e 61 Dai Tangete 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 2 e 61 Va bene È la vita di un imbecile Andiamoci a buttare Andiamo a saltare Andiamoci a buttare Andiamoci a saltare Attenzione So Perché salto Più di una volta Perché Calmi raga Non mi devo agitare So che posso farcela A morire altre E 300 volte Però Attenzione Raga Ultima prova Dai Perché vi ripeto Poco tempo Devo ditare Che ditare Non è per niente facile Ok Già sincronizzare Webcam e gameplay Ci metto 10 anni Perché non è che sia Molto semplice Per chi non è esperto Mamma mia Sto saltando ancora No raga ma questo è qualcosa di strano Io salto sempre oltre Allora O non ci arrivo proprio O salto oltre Mi dite che senso ha Vabbè Ultima prova Dai Come si dice L'ultimo tenta Non cade nella mia Edda Non è un proverbio mai Non lo dite a nessuno Perché non è un proverbio Adesso io Non mi voglio far Prende in giro Ok Vabbè raga Qua sono facile Se sbaglio Sono io l'imbecile Ragazzi Avete qual è l'errore Che io clicco Due volte W Invece cliccare C'è TRL Che è così comodo Per saltare E E quindi Salto un po' dopo E muoio Un po' un culo Vabbè dai Lo facciamo veloce Dai 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 Questo è fatto Questo è fatto Cioè raga Ho già visto il livello finito Stavo già pensato Nella mia testa Inizio il nuovo Vedi un po' com'è E poi aiuto No E poi se ne imbecile No raga A me ti dà una sfida Tra me e lui Ultima prova E non sto scherzando Stavolta Veramente ultima prova Quasi si mette paura Alla mappa Va bene Allora Ok Ok Comunque ragazzi Mi lagga di meno Questo è vero Avevate ragione Che diminuendo La qualità Diciamo Della texture Niente 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 Vabbè raga Un'altra prova Ci sta Perché se ci sta Salute con io Ci sta Ma no perché sono io Perché ci sta No raga È veramente Ormai diventata una sfida Tra la mappa e me Perché io avevo Già finito la mappa Non stiamo scherzando Non stiamo scherzando Però ultima Lo giuro Ho giurato Quindi se rispetta Ultima prova Ultima prova Dai Muori Ok Oh 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 Ma poi la cosa Idiota No Che io sto sbagliando Questo parkour Semplice Come non so che cosa Perché sono Un impegno Non do più colpi Da nessuna parte Né vicino al muro Né qua Perché vediamo poi O si rompe il muro O si rompe la scrivania Quindi siamo calmi No Vabbè Ultima prova L'avevo detto Se salto lì Sapete che sono tipo Inculato Cioè Perculato Perché Da voi si salva Il checkpoint Vabbè Ma non ci pentiamo A queste cose brutte Ma posso tipo Romare i cartelli Ops Vabbè Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Che c***o Ho aperto il mondo Ho aperto il mondo Ok siamo ritornati E spero che questo video Vi sia piaciuto Mi scappa Non starò nudo Però finisco prima il video Perché sono bravo Quindi ci becchiamo Al prossimo video Lasciate like Commentate Condividete Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E ciao